Allora, c'è il discorso del settore comunque riguardo all'artigianato, settore dell'edilizia. Segno più, segno meno? Beh, questo è una di quelle aree un po' più buie, per cui il segno decisamente è negativo. Ci sono territori dove grazie ad alcune abilità di alcune imprese artigiane e non solo delle costruzioni ci sono dati segnali positivi, però invece non è così dappertutto? No, per quello che riguarda la provincia di Treviso non sono assolutamente state recuperate, ammesso che l'obiettivo sia quello, ma tutta l'area economica legata all'edilizia non è assolutamente stata recuperata. Sono diminuiti in questi ultimi due anni i fallimenti e questa è una buona cosa delle imprese, però insomma il tema dell'edilizia è un tema che deve un po' rivedersi, quindi costruire un uomo. Il problema cos'è? Si è troppo costruito male o ci sono altre questioni? Sicuramente si è costruito tanto, per cui a Conegliano ci sono 1500 appartamenti liberi in città, quindi questo la dice lunga. È vero anche che c'è stato un calo demografico, che i giovani escono e vanno nei paesi limitrofi perché l'appartamento costa meno, la casa costa meno, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che vanno a creare questo numero. C'è per fortuna un lavoro fatto sul restauro, sulla riqualificazione, sulla bonifica di certe zone che ha ripreso e dovrebbe essere anche spinto. È chiaro che anche qua spesso ci sono degli edifici che una volta venivano sovvenzionati da fondazioni, da comuni, da contributi che arrivavano e chiaramente conosciamo bene il periodo in cui viviamo e tutto questo viene un po' a mancare. Però ecco, una lettura nuova su tutto il tema dell'edilizia bisogna affrontarla sicuramente. È un argomento che va affrontato questo. Ci sono altri ambiti, lei diceva l'agricoltura, comunque ha avuto buoni segnali, questo è molto interessante, è anche un'agricoltura, tra virgolette, giovane, questo è importante. Abbiamo visto il metalmeccanico che sta andando bene, quindi il manifatturiero di conseguenza ugualmente sta tenendo, legno arredo. Sempre all'interno del manifatturiero c'è il legno arredo. Nel Coneglianese le cose stanno andando discretamente, nelle aree in cui, tipo il quartier del Piave, quindi Pieve di Soligo, dove c'era un vero e proprio distretto del mobile, lì sicuramente ritornare ad un modello in cui la grande fabbrica aveva determinati numeri di produzione è difficile. Però anche nel Piavigino c'è una ripresa che è visibile e quindi da questo punto di vista ci sono dei segnali positivi anche dal legno arredo. Servizi? Servizi. I servizi, come dicevo prima, un altro dato che emergerà dalla ricerca che vedremo domenica è quello dell'aumento dei servizi all'impresa, ma anche dei servizi alla comunità. Non a caso c'è una questione demografica che vede i giovani in sofferenza, nel solo comune di Conegliano, area coneglianese diciamo, i giovani dal 2011 al 2016 sono passati da 22.000 a 20.000, e intendo dire giovani under 14. Quindi una diminuzione demografica. Una diminuzione demografica che è generalizzata e trasversale per tutto il paese e che quindi a questa non possiamo sottrarci. C'è in corrispondenza un aumento invece della popolazione, soprattutto dell'over 65, nel Coneglianese, insomma, sono aumentate di circa 4.000 unità. Questo da un punto di vista di quelli che sono i pensieri per il futuro, non avere giovani, avere pochi giovani è un dramma perché è su loro che bisogna puntare. E dal punto di vista di questo invecchiamento attivo si crea una nuova filiera anche sotto forma di servizi alla persona e quindi c'è un ribaltamento della situazione nel senso che si vengono a creare anche nuovi posti di lavoro. Leggo il messaggio. Evoluzione delle aziende, tecnologie avanzate ma paghe azzerate, disoccupazione altro che 3.0, 4.0, 40.0. Non ci sono posti di lavoro né per i giovani e peggio per i cinquantenni rimasti senza lavoro. E quei pochi che trovano accettano lavoretti a paghe ridicole dal terzo mondo, punto e zero. Questo è un commento di un telespettatore. Sì, ha una lettura che può essere reale. La mia esperienza può succedere quando vengono a mancare delle professionalità e delle competenze. Quindi la riqualificazione professionale per poter affrontare queste nuove realtà aziendali può essere una chiave di lettura? Sì. Ma chi deve farla? Soprattutto anche per tutta, come diceva l'ascoltatore, per quella generazione, i baby boom alla quale prendo parte anch'io, è difficile a cinquant'anni, se si viene esclusi da un mestiere, riqualificarsi. E' chiaro che qua la scuola e la società deve creare quelle strutture per agevolare la riqualificazione e il reinserimento di queste persone che sfortunatamente rispetto agli altri vengono a perdere il lavoro. Insomma, quindi anche qua è un lavoro da fare di squadra, tutti insieme, associazioni, categoria, imprese, comuni e chi ha questa possibilità. Quello vuole chiedere, che un po' se l'accia anche a questo discorso, è cambiata l'associazione? Per quel che vi riguarda, che cosa è cambiato in tanti anni? Che la crisi c'è stata non solo per le imprese, ma naturalmente anche per le associazioni che rappresentano le imprese. Per cui le imprese che erano date come delle strutture che dovevano aiutare le imprese ad assolvere determinati adempimenti, oggi non è più così. E' vero che c'è un problema di adempimenti al quale lo Stato ci sottopone, però molti di questi adempimenti possono essere svolti dalle stesse aziende. Ma la cosa più importante, dal nostro punto di vista, è il cambio di marcia che vogliamo fare in questi anni, e questo momento del post-crisi è il momento ideale, è quello di presentarsi alle imprese e alla società e ai collaboratori delle imprese come associazioni che promuovono nuovi servizi, che aiutano le imprese a riqualificarsi, a rigenerarsi, a creare valore aggiunto alle imprese. Quindi servizi di orientamento, che dicano quali sono i driver, di consulenza, cose un po' diverse da quello che è il classico adempimento, paghe, contabilità. Quindi c'è un'evoluzione anche nel essere partner della crescita delle aziende. Sì, pur in questa crisi che stiamo vivendo della rappresentazione, che coinvolge un po' tutte le associazioni di categoria, di categoria, sì, la questione della disintermediazione per cui qualcuno occupa un posto, ecco, proprio questo è il momento in cui bisogna saper ripartire con nuove cose, con nuove idee, che siano effettivamente di aiuto alle imprese e ai collaboratori che lavorano nelle imprese. Un po' una domanda a lei da presidente, quindi comunque rappresenta tante aziende, tante imprese, quante sono? I nostri soci sono 1.500, nella provincia di Treviso invece, con Fartigianato Marca Trevisiana, rappresenta circa 12.000 imprese. Quindi non pochi. Se potesse fare una richiesta al governo che si sta organizzando, costituendo, quindi che tipo di istanza primaria le viene da porre? Ma, insomma, sembra quasi voler prendere un mantra, però, insomma, le cose più importanti sono sempre quelle tasse e burocrazia, che sono un po' trasversali per tutti, e quindi queste ci sono e rimangono. Sicuramente snellire certe procedure, adesso sta arrivando la fatturazione elettronica, non possiamo equiparare la fabbrica che fa 200 dipendenti all'artigiano che magari è solo a uno o due dipendenti, quindi mettere dei paletti e fare in modo che le cose vengano fatte con più buon senso, se mi hai consentito il termine, nel senso che sicuramente non possono esserci le stesse regole, ecco. E poi abbiamo visto questo piano calenda nel 2017, se effettivamente è un piano che è stato preso da quello che è successo nei lender tedeschi e avrà successo, dovrebbe essere perseguito e migliorato. Sostenere tutti quei poli tecnologici, questi Competence Center, Digital Innovation Hub, sulla quale lo Stato con questo piano calenda ci ha messo dei soldi e che possono aiutare le imprese a crescere. Chiaramente insieme alle imprese crescono i collaboratori e se le imprese vanno bene stanno meglio tutti quanti. Assolutamente, voi avete segnali di export positivi, c'è anche consumo interno come non ho neanche chiesto? Più che il vero dato è quello che, rifacendomi sempre alla metameccanica di produzione legata a inox, automotive, plastica, c'è un dato decisamente positivo per quel che riguarda non solo il Coneglianese ma anche tutta la provincia di Treviso. Quindi un export positivo, quindi questo è importante. Sì, le aziende che si sono specializzate e che sono andate a prendersi in mercati esteri ci hanno visto lungo e ci hanno visto bene. Perfetto, noi siamo arrivati al termine, in bocca al lupo per tutto quanto, per le nuove sfide che vi attendono, quindi magari l'avremo anche presto in trasmissione nuovamente per raccontare altre particolarità, altre connotazioni di questa realtà. è sempre importante perché in una regione che comunque per fortuna sta riprendendosi abbastanza bene, ci sono delle aree, dei territori che hanno delle connotazioni particolari diverse. Grazie ancora Presidente, grazie a voi di averci seguito come sempre domani. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi